occhialone americano nero google m44 arriva sigillato nella sua confezione ha una bustina di nylon che lo avvolge e delle lenti protette da una pellicola che dovrete rimuovere per poterli utilizzare la pellicola presente sia sul davanti che sul retro le lenti sono facilmente sganciabili tramite questi bottoni automatici uno sopra e uno sotto la potete sostituire nella scatola abbiamo quella di ricambio affumicata praticamente anti sole e questa viene utilizzata per le ore notturne il modello come ripeto risale al 1944 sostanzialmente rimasto invariato nel tempo interamente in gomma deformabile per cui non è soggetto a rotture per per urti elastico sul retro regolabile da ambo le parti tramite una fibbiettina metallica morbida spugna per poterlo portare in maniera aderente fuori di areazione questi sono fuori areazione presenti su tutta l'arcata superiore che sono chiusi da un pezzo di stoffa adesiva traspirante in funzione antipolvere ma è possibile anche rimuoverla per far circolare ulteriormente l'aria maniera migliore